Musica Cari spettatori buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG Mattina. Oggi è martedì 29 ottobre 2024, San Feliciano e come sempre andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo con la stampa, nei fatti locali il distretto del riso c'è ma non si vede, Novara e Vercelli adesso alleatevi, creato nel 2013 e accantonato, può essere una vetrina importante del Piemonte. Poi il diritto alla creatività, Omenia, bambini protagonisti al festival dedicato a Gianni Rodari. Dunque il distretto del riso dimenticato, Novara e Vercelli si alleino, va rilanciata la promozione, creato nel 2013, presto però accantonato, non compare nell'elenco regionale. L'assessore Paolo Bongioanni, l'assessore regionale all'agricoltura, rilancia, si lavora insieme alla valorizzazione. La proposta trova risposte favorevoli dalle associazioni di categoria, anche perché, dice Bongioanni, al G7 dell'agricoltura, sentivo parlare solo di Toscana e Sicilia, dobbiamo rilanciare anche il Piemonte. Abbatteri i cinghiali, una priorità necessaria alla deroga, le risposte sull'emergenza della peste suina. E poi c'è il fronte del no contro Develog, vale a dire la logistica prevista tra Pernate e Gagliate. Rispetti la volontà dei cittadini e indigna la lettera di avvertimento al sindaco di Gagliate, dell'azienda costruttrice del polo logistico di Pernate, la protesta dei partiti di minoranza di Novara e degli ambientalisti a fianco del comune di Gagliate. E domani ci sarà il voto del Consiglio, prevista però la bocciatura del progetto alle 21 al castello di Gagliate. Ai mondiali di hockey il bar del Palaigor abusivo, la denuncia di Sara Paladini, consigliera PD e il vicesindaco De Grandis sbotta, non faccio il ficcanaso. E sulla gara annullata la minoranza critica, vicesindaco e dirigente, la gestione del centro sportivo terdoppio. E poi Casorati, la provincia replica i genitori, qui lezioni al sicuro, risposta ai timori dopo gli incidenti avvenuti al liceo dall'inizio dei lavori, la bonifica dell'amianto si svolge tendenzialmente nel fine settimana. Addio dottor Giancarlo Allegra, per tanti anni medico del Novara Calcio, aveva 86 anni, oggi il funerale. E poi la cronaca, il rapper traffic è stato multato di famò i carabinieri. Scontri in carcere a Novara, questo è avvenuto domenica sera, con violenze e vandalismi contro la polizia penitenziaria, che ha richiesto rinforzi. Quattro detenuti si sono barricati in una sezione e hanno tentato di rubare le chiavi. Vicini agli anziani nell'RSA, risorse non solo un costo, la premiazione del concorso letterario di Invorio. E poi andiamo nel VCO, segretario generale, la scelta di Albertella, che chiude il caso Moglia. A Verbani ha nominato Domenico D'Apolito in arrivo da Bustarsizio, il sindaco dice puntiamo alla qualità ma anche alla serenità dello staff. La regione faccia scelte coraggiose, Lillo che lascerà la guida dell'ordine e Antonio Lillo e lascerà a Maurizio Borzumati l'appello dei medici del VCO. Al San Biagio Punto Bimbi a Singhiozzo, critiche del sindaco di Domodossola e l'aslo VCO. Il servizio è funzionante, non H24 perché manca il personale. L'Agostina è in crescita, radici ben salde e voglia di innovare la produzione a Crusinallo è aumentata del 30% e da poco è stato realizzato un nuovo parco eolico. con lo stabilimento di Omenia a 115 dipendenti. A Omenia nel nome di Gianni Rodari viene lanciato il diritto alla creatività. Al forum si è svolta la finale del premio letterario dedicato allo scrittore Cusiano. Il suo insegnamento è attuale. Mimma Moscatiello, assessore alla cultura, Rodari è stato anche un maestro di pace. Oggi tanti bambini che vivono in guerra non sanno cosa sia. A Miazzina consegnati i primi scuolabus targati Parco Valgrande. E poi la cultura, il fantasma irrompe nei musei e racconta i mestieri del Cusio. Stamattina ad Armeno la performance ideata da Franco Acquaviva, domani la replica Pettenasco. Due occasioni per riscoprire personaggi come gli alberghieri che hanno fatto il giro del mondo. E poi maratona horror giovedì a Villa Marazza, la maratona con i più celebri film del genere, ovviamente, a Borgo Manero. Premio Stresa con Alma ha vinto Trieste. Il romanzo della scrittrice friulana Manzone è un viaggio del cuore tra identità e storia. La pesca come opportunità della vita, il tributo di male scorto a due registi, il Festival Vigezzino ha dato l'ultimo riconoscimento del 2024, quello della sezione territori. E poi lo sport, Novara all'assalto di una corazzata gattuso alle prese con tre incognite. Quest'oggi allo Stadio Piola alle 20.45 contro il Vicenza. Il tecnico però rischia di non poter contare su Ranieri, Di Munno e Morosini. Poi il volley, un derby del Piemonte in aiuto agli anziani soli con specchio dei tempi. Solidarietà domani sera al Palaigor. Margaroli, re del rally, due laghi più forti di pioggia e nebbia. Lo Solano ha battuto in rimonta Caffoni, che è stato rallentato da un problema meccanico. Il maltempo ha condizionato la corsa, dei 107 equipaggi partiti sono arrivati al traguardo in 69. Ossolani protagonisti, Di Pietro rivelazione a un passo dal podio, risultati nelle altre classifiche. Poi c'è il tennis, il piazzano piega Lecce, balza in testa al girone 1, obiettivo i play-off di serie A2. E poi la corsa in montagna, bronzo a Broggi, Borgialli al secondo posto della Bellagio Sky Race. Poi la stampa, la prima pagina nazionale, vince Bucci. Il Movimento 5 Stelle affossa Orlando, il centrodestra supera il caso Toti con il candidato di Meloni. Crollo dei 5 Stelle, pesa il no a Renzi. Il PD è il primo partito, in calo Fratelli d'Italia. La vendetta di Grillo non ho votato. L'affluenza crolla al 46%, ben 7 punti percentuali in meno rispetto alle scorse regionali. Poi si parla dell'inchiesta di Milano, l'archivio degli spioni dai Ross a Palazzo Chigi, col cellulare criptato parlavano con gli 007. Poi il dramma di Matilde Lorenzi, 19 anni, campionessa di sci, che lotta per la vita. Ieri mattina un brutto incidente, mentre si stava allenando, gli scissi sono divaricati mentre scendeva lungo la pista. E poi all'estero la Georgia anti Putin, la vittoria dei filorussi, ma migliaia sono in piazza contro quelli che reputano brogli. In realtà il popolo vorrebbe l'Unione Europea e quindi entrare nell'Unione Europea. E poi negli Stati Uniti ci si avvicina al voto. Il voto dei neri non tradirà Harris. L'incognita e il sessismo. Ci sono notizie anche su questo fronte della notte. Trump dice che sono il contrario di un nazista. Harris è fascista. Poi ci sono le prime reazioni al voto in Liguria. Orlando abbiamo pagato qualche problema del campo largo. Marco Bucci neoeletto, la buona Liguria non torna indietro. Meloni commenta la vittoria di Bucci. È una conferma della fiducia dei cittadini nel centro-destra. Ricordiamo ha vinto per pochi seggi. è stato eletto con il 48,77% contro il 47,36% di Andrea Orlando. Poi ci sono altre notizie. La paura del legame tra Mosca e Pyongyang che minaccia la sicurezza globale. Questo è l'avvertimento della Corea del Sud. In Vietnam tre morti e 20.000 evacuati per la tempesta tropicale Trami. E poi ancora i fronti di guerra a Kiev. Almeno un morto, 12 feriti in un raid russo a Kriviria in Ucraina. Mentre in Palestina c'è il blocco. Lo vediamo tra l'altro sul Sole 24 Ore. Il bando dell'Unione per la protezione della Palestina. In Israele dunque viene messo al bando l'attività dell'Urra che ovviamente protegge la striscia di Gaza. Dunque la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato la legge che vieta qualsiasi attività e all'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi che operano all'interno di Israele. Biden chiede che la guerra finisca il prima possibile. Si parlerebbe di una tregua di 28 giorni per la striscia di Gaza. Poi la manovra via 4 miliardi e 6 dal fondo delle auto per finanziare l'industria della difesa. Sul taglio ai finanziamenti pesa il calo della produzione di Stellantis in Italia. E per quanto riguarda le auto e shock in Germania, Volkswagen chiude tre impianti, migliaia sono i licenziamenti. E l'azienda taglia anche gli stipendi. Dunque un momento davvero nero per Volkswagen e poi per tutto l'indotto ovviamente che lavora alle auto dell'azienda. Per quanto riguarda il tempo, poco nuvoloso oggi e domani. 11 gradi la temperatura minima, 18 gradi la temperatura massima, possibili foschie nella notte. È tutto per oggi, vi auguro una buona giornata e vi lascio ai programmi dell'emittente. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.